Vai! Uè, basta! Si! Non c'è nella frutta! E' frigo! Ti lo provo ai taglieri in bici! Si, si, si! Già il 36 va a poc'anno però! Che cosa fai il 36? Ah, il 36! Che cosa fai il 37? Ehi, ma come si dirà? Voleva! Sto provo a fuori parma, vuoi in autostrada? Voleva! Non c'è nella autostrada con quella roba! Sto provo a fuori parma! Sto provo a fuori parma! dai via vai via vai via gli invichi però è impossibile inserirli è finito? con la marmite anzi è volata via